Mantenere vivi contatti con tutti i piemontesi e i loro discendenti che vivono all'estero. E' questo l'impegno di una vita per Michele Colombino, presidente dell'Associazione dei Piemontesi nel mondo, insignito del sigillo della Regione Piemonte, la più importante onerificenza regionale riconosciuta a coloro che si sono distinti per attività professionale, volontarie o benefiche. La cerimonia di consegna del sigillo si è svolta venerdì 21 maggio nell'aula di Palazzo Lascaris. Il riconoscimento era stato deciso nel novembre scorso con una mozione avanzata dall'assessore regionale all'immigrazione Maurizio Marrone e sottoscritta da tutte le forze politiche approvata alla unanimità dal Consiglio regionale. Tutti i piemontesi nati e che vivono in Piemonte hanno un parente che sono immigrati in oltreoceano 100-150 anni fa. Ci deve essere un incongiungimento fisico ma anche spirituale e culturale. Questo è il nostro intendimento con l'onerificenza che abbiamo dato oggi a Colombino. Nata nel 1981, l'Associazione dei Piemontesi nel mondo custodisce e tramanda il fondamentale contributo che il Piemonte ha dato e continua a dare all'immigrazione italiana dagli Stati Uniti all'Australia senza dimenticare il continente sudamericano, dove oggi sono più di 4 milioni discendenti di emigranti piemontesi. L'attività di Michele Colombino, che ha voluto il Museo regionale dell'immigrazione di Frossasco e il Monumento ai Piemontesi nel mondo di San Pietro Vallemina, ha contribuito a far conoscere il concetto di piemontesità diffusa, intesa come volontà e sacrificio di chi un tempo lasciava la propria terra e oggi come attività di scambio culturale e imprenditoriale. E' certo che l'immigrazione è costata moltissimo per tanti e tanti e tanti uomini e tante donne. Pensiamo anche al sacrificio di nostri migranti che si trasferivano con le navi, quindi cercavano qualsiasi modo pur di raggiungere una finalità. La volontà e soprattutto la dignità di essere uomini o donne civili. Alcuni momenti della lunga storia dell'immigrazione piemontese sono esposti nella mostra Monumenti e Radici Piemontesi nel mondo, allestita fino al 18 giugno nelle vetrine dell'URPA del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale a Torino. I pannelli fanno parte di una più ampia rassegna curata dall'Associazione Piemontesi nel mondo nel 2019, in occasione del 45esimo anniversario dell'inaugurazione del Monumento ai Piemontesi nel mondo a San Pietro Vallemina.